Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove c'è un chilometro di coda per lavori tra Ponte d'Era Est e la diramazione per Pisa in direzione Livorno. In A12 si è verificato un incidente tra Massa e Versile in direzione Rosignano. Fino all'8 dicembre tratto chiuso per lavori al chilometro zero della strada provinciale 224 di Marina di Pisa nei pressi dello svincolo di via Quaglierine a Livorno della FIPILI per una frana avvenuta al chilometro 79 865 proprio della FIPILI. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano Nord e Impruneta in direzione Firenze. Statale 64 Porrettana provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni per una frana tra Pavana e Ponte della Venturina. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!